Mi ci voleva, proprio fatte fino ad anni fa, 2.800 e 2.000 euro di gas. Ho messo la tabella a pelle e sto andando avanti. Allora, in questo punto quella cosa tutto colorato è un fantasma che hanno messo in questa cosa qui, che hanno rotturato in un barattone, che il trasparente non si vede bene. E allora, sì, va bene, questa cosa registrata, questa cosa qui, questa cosa, la vedete, quella che sto indicando ora, quella che ora stiamo indicando il rito, il rito che non si vede tanto e tanto bene, è il fantasma intrapolato. È un fantasma un po' strano, lo so. Hanno pensato tutti che era un fantasma perché si muoveva e faccio calzare le cose, e poi diventava, spariva e le cose si inseravano al sole. Hanno pensato che era un fantasma, proprio quello doveva essere un fantasma.